Neonazisti, suprematisti, negazionisti tra le province di Napoli, Caserta e Avellino. Cinque persone sono state arrestate e per una è stato disposto obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a Roma, dove risiede. Apparterrebbero, insieme ad altri indagati, a un'associazione con finalità di terrorismo, l'Ordine di Agal. L'inchiesta della Digos e dell'antiterrorismo, coordinata dalla Procura di Napoli, PM Antonello Ardituro e Claudio Onorati, con Giovanni Melillo, ora procuratore nazionale antimafia, già nel 2021 aveva portato a perquisizioni durante le quali erano emerse tante armi di vario genere e simboli nazisti. Alcuni componenti sarebbero andati all'estero per essere addestrati da gruppi militari ultranazionalisti e uno dei destinatari dell'ordinanza è l'Atitante, proprio in Ucraina, dove l'associazione avrebbe contatti con il battaglione Azov, impegnato nella guerra, e non solo, contatti frequenti anche con Pravi Sector e Centuria. Dalle attività di intercettazione è emerso come alcuni membri dell'Ordine di Agal si erano andati a fare dei corsi di addestramento al combattimento corpo a corpo, in particolar modo utilizzando il Krav Maga, un sistema di tecniche di combattimento, e anche addestramento all'uso delle armi, sia corte che lunghe. Non tutti, però soltanto alcuni. Diciamo che avevano anche ottenuto dei diplomi facendo questi corsi all'estero. Altre perquisizioni sono in corso in tutta Italia. Il profilo degli appartenenti sarebbe in larga parte ordinario, liberi professionisti, operai, commercianti, studenti. In alcune intercettazioni è emersa la volontà di preparare azioni violente, ipotizzando ad esempio un attentato alla stazione dei carabinieri di Marigliano, nel Napoletano. Gaia Bozza, Sky TG24, Napoli.